Luoghi della memoria, le magliette gialle alla scoperta delle testimonianze della Prima Guerra Mondiale nella città di Ravenna per realizzare una guida turistica da distribuire ai visitatori. Che tipo di laboratorio state portando avanti? Allora, è un laboratorio di tipo informativo, dove praticamente dobbiamo cercare in giro per Ravenna delle testimonianze sulla Prima Guerra Mondiale, creare un opus con informativo che poi verrà distribuito ai vari turisti. Alla fine del laboratorio poi bisogna cercare, bisogna fare questo opus con appunto dove ognuno ha un determinato ruolo all'interno della ricerca delle informazioni. Io per esempio ho dovuto portare avanti una parte del progetto che riguarda la memoria dei caduti a Ravenna perché anche Ravenna comunque ha contribuito al portare avanti la Prima Guerra Mondiale attraverso l'invio di vari soldati di cui 4.080 sono morti. Poi vabbè, anche Ravenna ha avuto il triste primato del fatto che il primo morto italiano civile è venuto a Ravenna il 24 maggio 1915. Insomma, la ricerca si basava su questo. Che tipo di testimonianze avete trovato? Allora, intanto siamo andati a vedere la chiesa di Santa Polina di Nuovo. Non c'era molto. Abbiamo cercato di visitare la Cappella della Pace e lì sono riuscita a scattare qualche foto che mostrava la bomba che ha colpito Santa Polina di Nuovo durante la Prima Guerra Mondiale. Si vedeva praticamente l'affresco superiore, la parte inferiore e tutti i mattoni che sono stati serviti per ricostruirla, comunque sconnessi e tutte le lapidi intorno per i caduti della Prima Guerra Mondiale. È un lampadario con la forma e le dimensioni della bomba che praticamente ha colpito la chiesa. Abbiamo visitato anche la ex caserma Garibaldi, perché non rimane praticamente più niente, se non un ceppo e una targa dedicata alla 27esima e 28esima brigata che ha partecipato in 1911 alla Prima Guerra Mondiale, la Brigata Pavia. Poi abbiamo visitato anche un attimo i giardini pubblici. Più che altro ci siamo basati sulle fonti fotografiche dell'epoca. e nel 1916, il 3 maggio 1916, una bomba ha colpito i giardini pubblici e in una foto si vede proprio il solco. Allora, io avevo il ruolo di praticamente fare un quadro generale e per poi fare, diciamo, ci siamo suddivisi il ruolo. Io avevo un quadro generale in cui dovevo parlare dei morti, dei caduti e le associazioni durante la guerra che assistevano i feriti soldati e queste informazioni le ho ricavate da fonti bibliografici, diciamo, tramite anche siti internet. e praticamente il mio quadro generale era di praticamente i dati dei morti caduti dei civili, dei soldati di Ravenna caduti nella Prima Guerra Mondiale e di praticamente i luoghi e i bombardamenti e le associazioni che assistevano i feriti. Come mai hai deciso di dedicare una settimana della tua vacanza a questi lavori in comune appunto? Perché penso che sia importante entrare nel mondo del lavoro anche attraverso il lavoro di volontariato per capire un attimo come funziona e poi comunque è un modo per fare amicizia per imparare anche di più è molto divertente comunque. Per fare magari nuove esperienze per fare amicizia con delle nuove persone e anche perché io non ho mai fatto i lavori in comune e volevo provare a fare una nuova esperienza, diciamo. Grazie. Grazie.